Ciao Catterpiece, bentornati per un'altra puntata sul canale iCatterby. Quest'oggi voglio farvi vedere un mazzo che poteva tranquillamente essere pensato a nascere come meme, ma che negli ultimi due tornei, rispettivamente il più grande internazionale e il più grande regionale per il momento di sempre, è arrivato entrambe le volte in top 8. Sto parlando della nuova versione di Ronnie Moon che vede come partner Dudu Spurs. Prima però, sigla. Bene, eccoci qua pronti per vedere insieme la lista di questo Ronnie Moon Dudu Spurs. Allora, il mazzo è di per sé molto semplice, quindi niente faragonato all'ultimo control che ho portato sul canale. Qui il mazzo si basa su una strategia molto lineare, ossia caricare il Ronnie Moon, indipendentemente che sia l'ex o il base, e attaccare con quello. La cosa che secondo me rende questo mazzo molto interessante è data dalla presenza di Dudu Spurs nel mazzo, perché è un qualcosa che finora non si è visto, è una carta relativamente nuova, per cui magari avrà sicuramente modo di essere più interessante nel corso del tempo futuro. Ma di base il Dudu Spurs dice che una volta per turno puoi pescare 3 carte e rimettono il mazzo. Soprattutto man mano che il mazzo viene prosciugato, ci ritroveremo ad avere sempre meno carte, il che gioca a nostro vantaggio considerando che vogliamo quante più Ancient negli scarti per aumentare il danno fatto da Ronnie Moon base, e al tempo stesso ci darà la possibilità di ripescare il Dudu Spurs, che può essere giocato per ripescare, che può essere giocato per ripescare, avete capito dove voglio andare a parlare, no? La cosa che rende questo mazzo secondo me molto interessante è che ha la possibilità di giocare sia con i piccoli che con i grossi, nel senso che ha la possibilità di scambiare premi uno a uno con il Ronnie Moon piccolo, e nello specifico il fatto di avere 140 di vita di base con i 60 di vita in più offerti dalla capsula, vuol dire 200 di vita per un base da un premio, non è tanto piccolo, con la possibilità di fare grossi danni. Al tempo stesso avere la possibilità di tirare giù letteralmente chiunque con il Ronnie Moon, anche lui che con la capsula poi arriva ad avere 90 di vita, non grossissimo chiaramente, però sicuramente sempre meglio di avere i 30 alla portata del Charmander. Che cosa ha guadagnato Ancient nell'ultimo blocco? Ha sicuramente guadagnato il Ronnie Moon, che è arrivato, e come potete vedere le supporter. Sada era qualcosa che già esisteva, ed è chiaramente il nostro fulcro per quanto riguarda questo mazzo, ma ha guadagnato anche Explorer Guidance, che è una carta supporti, dice guarda le prime 6, due le tieni, quattro le scarti, non il massimo perché ci milla parecchio, ma in un mazzo come questo, dove ci interessa relativamente quello che milliamo, può essere anche decisamente producente. La lista non è assolutamente mia, arriva dalla top 8 di Orlando, e come potete vedere è già messa in prova delle carte che sono venute fuori all'internazionale. Io personalmente ho giocato in top 8 contro questa lista con la sua differenza di una carta, che era il Tempio di Sinnoh, giocava la terza Artazon. Qua differenza? Il Tempio di Sinnoh ti permette di giocare anche se il tuo avversario sta giocando Rory Neuvern, come avevo io con la Mist, in questo modo l'effetto di Rory Moon bypassa la Mist e quindi ci permette di one-shotare Neuvern. Quindi bene vedere come i giocatori competitivi riescono ad adattarsi al meta, agli sviluppi del formato. Per il resto niente di nuovo, se non sbaglio, i Dark Patch e le Sada dovrebbero darci una buona copertura per quanto riguarda i Rory Moon caricati, 4 Vessel, non trovare l'energia è davvero sfortuna, Tripla Trekking Shoes per sfoltire chiaramente il mazzo. L'unica differenza rispetto alla lista che ha fatto top 8 all'internazionale è che questa gioca due Rod e due Moon X invece di un Rod e due Moon X. In parte sono d'accordo, scartare Call Guidance a volte può fare male e recuperare l'energia non è così male per fare Green Ninja più spesso. Ace Pack è chiaramente il Prime Catcher. La Penny stra situazionale, nel caso in cui il Moon sopravviva per qualche assurdo motivo, ma ancora di più per far sparire quel Green Ninja antipatico che può essere fregato da Mawile. Bene, questo è quanto. Non, come avevo detto, niente di troppo impegnativo. Propongo questo mazzo, in questo momento ne proporrò altri, perché tante persone si stanno iniziando a approcciare al gioco dal punto di vista competitivo, visto che tra un mesetto ci sarà lo Spe di Bologna. E in tanti, anche in live, mi stanno chiedendo consigli su cosa usare. Io questo è un mazzo che al momento me la sento di raccomandare, perché intanto è divertente, è qualcosa di diverso dal solito, se la gioca bene contro Control, se la gioca bene contro Charizard, e può sicuramente togliervi qualche soddisfazione. Poi, chiaramente da qui a un mese manca ancora tanto, ci saranno ancora altri tornei in America, ci sarà un torneo in Europa, tutto può cambiare. Però, per il momento, questo secondo me non è una brutta scelta da sottovalutare, per cui ve la propongo, e adesso andiamo a vedere come funziona con qualche bella partita. Doodoo Moon. Carino. Carino. Allora, vediamo un po'. Monestamente non sono esattamente ferrato su quelle che sono i matchup, eccetera. Guardate, per primo, mi sto trovando spesso bene andando per primo. Posso evolvere il Doomsparse, posso coppiscare di più con Greninja? Chiaramente non posso usare la supporta, non posso mettere pressione, ma dipende un attimino cosa viene su. Cioè, per esempio, non è una brutta mano per andare primi. Potrebbe migliorare, chiaramente, avendo il Greninja. Ok, Charizard. Allora, dicevo, non sono particolarmente ferrato su quelli che sono i matchup o altro. Cercherò di fare del mio meglio per quanto riguarda il mostrare le partite. Trekking Shoes, sì, i dark parts sono troppo importanti in questa partita. Metti in campo un Doomsparse. Il Greninja c'è. Mi interessa solo le spec, evidentemente, sì. Tu vai qui, tu vai qui. Vabbè, non un brutto primo turno. Abbiamo l'Explorer, abbiamo il Doomsparse. Preferisco approfittare dei piccoli Rory Moon, almeno per quanto riguarda l'inizio, per andare a fare premi. Dopodiché, la mia strategia verte sul fare doppio Rory Moon. Lui chiaramente può... Iono, ok, cambia tutto. Lui chiaramente può darmi fastidio perché il suo Charmander può mettermi capò il Rory Moon. Però... Buddy... Pidgee, doppio Pidgee, Pidgee Charmander. Allora, non è andata malissimo, nel senso che comunque... Ah, chiaro, c'è il Bidouf. Vediamo se... Non ha trovato l'energia per ritirare. Ottimo. Vediamo se riesco a trovarla io. Un altro Doomsparse. Ho tutti i due Doomsparse, buono. E niente, ho sei carte che guardo e devo trovare un'energia. Va bene. Allora, abbiamo il doppio Rod per recuperare il Moon, per cui preferisco la Sada. Dicevamo. Ok, qualcosa è arrivato. E... Con il doppio Vestel sicuramente posso permettermi di fare un Greninja. Ottimo il Boss Order per dopo. E, 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 e... Scarto un Ronin Moon. Ho un altro Moon Ex? Sì. Mi tengo la Nesball per dopo, nel caso in cui mi serva. Allora, non è un brutto... Ah, non assegno la tool, perché tanto il Chizer una volta evoluto mi fa comunque il K.O. Sono indeciso se fare Nesball per gli Orori Moon subito, ma contando che ho... Per il Doomsparse, dicevo. Ma... Preferisco di no, potrei non trovare il... Il Moon Ex. Ok. Ok. Allora, chiaro, mi aspetto Candy Pidgeot, Candy Zard. E qui dipende cos'altro metterà in campo. Nel senso che se quel Zard è l'unico Pokémon, l'unico attaccante che gli resta... Chiaramente faccio K.O. con il Moon Ex. Se invece mette in campo un altro piccolo, prendo se ne metto in considerazione l'idea di andare con il boss e quindi andare a primi pari. Ok. Allora, lo vedo abbastanza indietro in realtà. Potrei fare K.O. il Chiarzal per mettere pressione, perché senza il Pidgeot lo vedo abbastanza indietro. Vediamo che cosa pesca sostanzialmente. Anche perché ha messo in campo l'altro Charmend, per cui... Dicevamo... Tu vieni qui. Tu vieni qui. L'energia ci sono. Per cui Sada, uno e due. Cioè dipende anche se salta fuori il patch o meno. Trekking Shoes. No. Non penso mi servirà a pen in questa partita. Questo le posso toglierle. Un patch, per favore. Doppio Doom Sparse, che non fa male. Ok. Trovato il patch. Dov'è qui? Dov'è qui? Dov'è qui? Non faccio Doom Sparse, perché mi può arrivare in faccia una Iono e voglio che questo Doom Sparse mi copra il... Avete capito. Capò. Lui ha fatto anche Chiazor T2, ma il mio Rory Moon T3 lo fa capò. Adesso, come può andare la partita? Lui, mi aspetto Iono, chiaramente, ma è anche vero che sono quasi coperto, nel senso che comunque vacuum, chiaramente. Quella Defiance è inutile, perché è il Charmander sbagliato. Ecco la Iono. Doppio Doom Sparse. Rory Moon in campo. Sono strasereno. Sono assolutamente sereno. Sì, lui ha sbagliato. Lui ha assolutamente sbagliato. Penso che adesso conceda. Sì, qui era chiaramente da fare, da segnare l'energia all'altro Charmander e prendere il K.O. Cosa sarebbe successo? Lui, Charmander e prendere il K.O. Io metto il Rory Moon piccolo, faccio K.O. e aspetto che lui evolva. Nel momento in cui evolva, io metto in campo un altro Rory Moon e lo one shot per i due premi. Chiaro e semplice. Ha pescato. Ha pescato. Allora. Cosa cerchiamo qui? Boss, se arriva. Sfoltire il mazzo in generale. Io ho due Moon fuori. Sto ancora cercando un... Sto ancora cercando dei Moon piccoli. Ah, eccolo qua. Uno c'è. No, ma con l'energia. Che babbo. Allora, ho doppio Dark Patch. Doppio Doom Sparse. Dio, sono abbastanza sereno. E' vero che non ho trovato il boss, ma posso tranquillamente trovarlo dopo. Ho due primi rimasti. Stata. Perfetto. Perfetto, ora aspetta soltanto che il doppio Doom Sparse mi dia il Rory Moon. Così non fosse... Mi sono comunque con il sedere parato perché ho il doppio Rory Moon che possono fare il K-O in due colpi al Zard. Comunque ho ancora boss. E' vero che non ci sia un indicatore su quanti danni fa il Moon senza doverlo contare. Però vabbè, c'è, mi sarebbe messo in campo il Rotom proprio per aiutarmi a vincere questa partita. Sarebbe poco carino non approfittarne. Questi Doom Sparse, come vedete, sono tremendamente carini perché ti danno una bella copertura. E' vero che anche il Bibarel lo farebbe, ma qua la differenza è che il Bibarel ti fa perdere le partite nel momento in cui viene intrappolato. Perché può comunque essere chiamato davanti se rischi di perdere le partite per quello, soprattutto contro contro. Il Doom Sparse non ha questo problema. E in secondo luogo, nei momenti in cui abbiamo per qualunque momento tante carte in mano, Bibarel sarebbe inutile, il Doom Sparse invece può continuare a farci pescare. Quindi pro e contro, chiaramente. No, visto se ha fatto la supporter di turno, no, mi aspetto che arrivi Yono. Io ho troppe carte in mano. Niente Yono. Niente Yono vuol dire che andiamo alla ricerca del Super Rod perduto. Questo tanto sparisce. O del boss, chiaramente. Allora, non so quanti danni faccio per cui pesco comunque come se non ci fosse un domani. I Rod ci sono. Ok, ho chiuso per farvi vedere che sei riuscito a fare un po' il Charizard. Voglio farlo perché è molto più divertente. Uno. Basta. Ultrawall. Scarto una. Due. Tempio il Sino nel caso avesse la Mist. Ah, ma che babbo. Non dovevo dare l'energia a Rory Moon. Chiedo umilmente perdono. Non dovevo dare l'energia a Rory Moon. Ma purtroppo ho questa brutta abitudine di registrare i video troppo tardi. Va bene. Allora, niente. Non davo l'energia a Rory Moon. Doppio Dark Patch. K.O. davanti. Ma complichiamoci la vita. Vediamo cosa sarebbe successo se... Chiedo umilmente perdono. Anche il boss su Rotom andava bene. Era una bellissima win condition anche quella. Allora, non sono comunque preoccupato per tanti motivi. Nel senso che... Anzi meglio, ma vi faccio vedere. Anche se sbagliate, la partita si può recuperare. Cosa succede? Mi aspetto che lui adesso faccia o Turo per salvare il Zard o Yono. Ma Yono sicuramente è la giocata migliore. E noi abbiamo comunque ancora tante carte che ci permettono di vincere. Perché nel momento in cui lui... Perché hanno fatto delle sedi di Dark Patch? Anche qua dovesse fare Yono e spezzare la mano. Comunque noi basterebbe un boss nuovamente per vincere. Li può anche decidere di fare boss sul Moon. Boss sul Moon vuol dire che il Moon piccolo fa il K.O. Insomma, abbiamo diverse strade libere. Io probabilmente, fosse mio avversario, farei semplicemente Yono, K.O. Ah, chiaro, mi avevo dimenticato del Catcher. Il Catcher Yono è chiaramente figo. Deve però ritirare quel Giza. Qui se c'è per Yono. Ah, io ho letteralmente tutti i Doom Spars in mano. Non il massimo. Però ho ancora due Guidance, due Explorer, nel mazzo. Con tanto anche di... Il Catcher è qui, però c'è il Prime Catcher. Insomma, vediamo. Vabbè, il mio avversario ha detto... Ha detto... Il mio avversario, famosse a caso, è giusto che le faccia anche io. Questo chiaramente è stato il pensiero del mio avversario. Non vedo... Anche perché la Yono ce l'aveva in mano. Era Catcher Yono. Era la giocata giusta. Tutto per non scartare queste due energie. Vabbè. Vabbè. Sì, noi abbiamo boss e K.O. dietro, chiaramente. Partita interessante, vero? Partita interessante, definiamola così. Interessante. Non so quanto sia il max cap di danni di questo mazzo. Però comunque mi aspetto che questo Aronimoon possa fare dei danni interessanti. Così, ma non combiniamo. Altre cavolate, una l'abbiamo già fatta. Ah, come ho detto, comunque... Lasciate perdere gli errori. Anzi, no, anzi, no. Non lasciate perdere gli errori. Guardate come questo mazzo si è riuscito a battere probabilmente il mazzo più forte in formato. Sicuramente uno di quelli più giocati. Pur facendo un errore talmente grande che poteva costargli la partita. Insomma, se un mazzo pur sbagliando comunque vi dà la vittoria, poi non sappiamo cosa sarebbe successo se avessero fatto Iono. Però la prima carta che ho pescato era un Explorer. Mi aspetto che con 11 carte rimaste nel mazzo, 3 le pesco, più 6 di Explorer, più 2 di Greninja. Le pescavo letteralmente tutte, 11, le carte in fila a pescare il catcher era matematico e avrei vinto comunque la partita. Ah, questo mazzo onestamente piace. Facciamo un altro. Doodoo Moon Doodoo Moon Il mazzo piace perché è aggressivo, può dire la sua in varie situazioni. Poi chiaramente anche lui bricca come tutti, ci mancherebbe. Però, non so, avere l'opportunità di fare un KO e avere due Doomspurs in panchina e quindi anche se mi fanno Iono da 2 e comunque so per certo di pescare 10 carte, non è male. Mi è arrivata la domanda, ma perché non giocare a questo punto una linea 3-3 Bibarel con uno Scovet? Non lo so, non lo so, non l'ho provata, per cui non lo so. Io so soltanto che ho visto un To Doomspurs e per me la sì. To Doomspurs Altro Zard? Però questa volta andiamo per secondi. No, se non mette niente in campo, Rony Moon è one shot, è ben vinto. Beccato Control. Ciao, per se. Allora, perché non sto attaccando? Perché tanto non ho il one shot. Sì, penso di essere contro una versione di Control che invece di giocare i Poké Gear gioca le Ultra Ball, Cleffa e Luminion. Allora, ho già... non dico che conosco questa versione, ma quasi. Mi aspetto di giocare questa partita tutta con il Moon Ex, onestamente. Mi tengo lì il Moon con un'energia nel caso in cui mi serve attaccare Mimikyu. Però qui, per quanto mi riguarda, è capo Clough, capo Aluminion, capo Pidgeot, Rotom, insomma quello che è. Ok, diamo una salata, certo. Dove ne ho c'è ci sono a sé. Sì, perché mi serve il Green Ninja. Mi serve un Dark Patch, per favore. Ci sono due sparse fuori. Questo qui lo voglio? No. Il Patch Patch. Ecco sono 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Peccato, sono molto dispiaciuto di non aver trovato quello che mi serviva, però spero così facendo di mettergli abbastanza pressione da fargli paura e non giocare e non attaccare di nuovo con Luxray. Questa è la mia speranza, perché dovesse attaccare nuovamente con Luxray mi farebbe fuori il Prime Catcher e mi darebbe chiaramente molto fastidio. Via Arason per Pidgey. Oh mio Dio, gioca senza Pidgey. Voilà, chiaramente non sono contento di perdere il Prime Catcher, ma fare questo attacco è fura follia. Cioè è huge chiaramente per lui, però è follia. Sono stato chiaramente sfortunato a trovare il Catcher adesso. Mi sarebbe sicuramente servito di più più avanti. Vediamo come si evolve questa partita. Non è andato. Adesso immagino che voglio fare Snorlax e mandare davanti il mio Greninja. chiaro. Qual è il problema in tutto ciò? Fatemi vedere se ho Penny, perché se non ho Penny qui... Penny c'è. Io ho questo boss, ma questo boss lo volevo tenere per il Pidgeot, non per l'aluminium. non per l'aluminium. Quanti danni farà sto coso? Boh Sette Otto, nove Dieci, undici, dodici, treci, quattro, quindici Centocinquanta, non basta Quattro, 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 quattro Quattro, 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 quattro Хорошо Ho fatto la giocata Penny Ultra Ball Rod ah no mi sono dimenticato di fare il rod vabbè niente volevo fare anche il rod per farlo sparire anche dagli scarti ok candy pidgeot ottimo perché io voglio andare a prendere quel pidgeot tre play sono sicuramente due sul pidgeot e l'altro non so come si va nella partita per cui vediamo non mi aspetto il mantine assolutamente non so appena che cosa aspettarmi oddio vacuom che dai a fare cinque carte non mi piace wait proprio non mi piace proprio l'ho provato non mi dice niente tutti evolvi tutti evolvi tu vieni qua tu vai giù eh Moicano non prendertela con me amore mio cioè stai giocando Wivitaf Tempio di Sino Tempio di Sino perfetto era poi un'epena avevo ora vincere questa partita con boss Tempio di Sino nei premi e il catcher scartato al primo turno la dici lunga qui cosa può fare il mio avversario il mio avversario può evolvere Wiglitaf dargli la mist ma stiamo facendo una partita che è finita io qui faccio rod per le tre energie sada dunspars 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 pesco tutto Tempio di Sino che poi finita allora la partita contro control è una partita che bisogna giocarla bene io so giocare bene l'altra parte per cui per me è stato semplice immedesimarmi in questa situazione il mio avversario ha fatto 200 errori ma non sono tanto dovuti all'errore in sé sono dovuti sicuramente al fatto che magari non sapevo giocare bene il matchup il secondo attacco lista chiara altamente discutibile il secondo fang snipe di deluxury e il mio era un un danno collaterale controllato nel senso che ovvero ho perso il catcher però ho preso i due premi sul luxury per cui io sapevo che questa partita l'avrei fatta due premi due premi due premi poi lui adesso una volta perso il pigiot non ha più niente ma proprio perché il luxury non deve essere giocato in questa maniera lui avrebbe dovuto aspettare che io mi mettessi sui danni per fare il capo a klauf quella era una mossa decisamente migliore perché tanto io da lì a un paio di turni avrei fatto rory moon mi sarei messo i danni per fare il capo il klauf lui poteva uscire con l'uxury danneggiarmi con il vacuum e la defiance fare il capo su rory moon prendere premi distruggermi la mano sarebbe stata una partita completamente riversa ed è come io ho vinto poi la mia top 8 internazionale per cui neuer è sicuramente molto forte non è essenziale per vincere questa partita si può vincere anche senza di certo non con wikitaf di certo non così insomma bene gg batte anche contro fruttissimo riassunto finale sul mazzo abbiamo fatto due partite è vero che era in ladder è vero che i nostri avessero tirato fuori non probabilmente la loro miglior la loro miglior partita però abbiamo comunque battuto cialzare contro perché sono una spia nel fianco uno il mazzo più forte del formato l'altro scegliete voi quale e comunque direi che può meritare ci sono parecchie combinazioni interessanti che si possono fare anche qua ma a un certo punto noi avevamo triplo doomspars in campo di cui due doomspars avessimo preso una yono avremmo pescato dodici carte ci sono tante cose che il mazzo può fare non chiaramente a livello di attacchi perché gli attacchi quelli sono ma come ho detto all'inizio del video la possibilità di prendere sia il piccolo che il grosso per un mazzo è qualcosa non scontato per cui provare e spero che il mazzo il video vi siano piaciuti così fosse mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto col prossimo video e le sere ancora per un mesetto in live su twitch ciao grazie a tutti